Costa Bissara, schianto automoto in mattinata lungo la strada Pasubio. Uno scontro violento che ha visto il conducente della moto, un 54enne di Tore Belvicino, svolare sopra il tetto dell'auto condotto da un 56enne di Vicenza. Quest'ultima sembra fosse in procinto di svoltare all'incrocio con la strada. Per Costa Bissara il motociclista è stato sbalzato violentemente a terra. Imediati soccorsi del SUEM che hanno portato il 54enne all'ospedale San Borto in gravi condizioni e dove ora è ricoverato in prognosi riservata.